E ora un episodio da Up di Disney Pixar! Russell, che stai facendo? Una trappola per beccaccini da vero esploratore della natura! E non appena si avvicina un beccaccino... Oh! Aiuto! Grazie per avermi salvato la vita, signor Fredrickson! E ora il tocco finale per una trappola perfetta! Nessun animale nell'intero universo può resistere! Cioccolato! Oh! Aiuto! Sembra così... cioccolatoso! Russell, se tu... Forse se sono veloce! No, aspetta, aspetta! Ne vogliono fare! Disney Pixar, Up in Disney Digital 3D!